Giornata all'insegna del maltempo in tutto l'oltre può pavese. Attualmente il problema principale sono gli allagamenti che stanno creando disagi agli automobilisti. In particolare è allagato il tratto di strada che collega l'Iper di Montebello con Genestrello. L'acqua che scende dalle colline di Torrazza Coste ha infatti invaso la strada, costringendo l'intervento della protezione civile e della polizia per regolare il traffico. I campi che si estendono ai lati della via per ricca gioia sembrano essere come fiumi che sfociano sulla strada provinciale 10 Voghera-Genestrello. Al momento comunque il tratto non è stato chiuso. Chiusa il traffico invece la strada Torrazza-Voghera nei pressi dell'ex fabbrica Merli e la provinciale 641 del Penice dove si è verificata una frana. A causa del maltempo è stata annullata la partita oltre Voghe-Verbano.